Il treno regionale, 5400, di Trenitalia, proveniente da Agrigento Centrale, è diretto a Palermo Centrale, delle ore 6 e 12, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Termini Merese, Bagheria. Il treno regionale, 5400, di Trenitalia, proveniente da Palermo Centrale, è diretto a Agrigento Centrale, delle ore 8 e 19, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Monte Maggiore del sito. Il treno regionale, 5404, di Trenitalia, proveniente da Agrigento Centrale, è diretto a Palermo Centrale, delle ore 7 e 42, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Termini Merese, Bagheria. Il treno regionale, 5456, di Trenitalia, proveniente da Palermo Centrale, è diretto a Agrigento Centrale, delle ore 18 e 19, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni.